benvenute cari anime gemelle nella vostra lettura per il mese di novembre 2021 la situazione qui inizia con questa carta dell'affermazione per i cambiamenti positivi in cui voi sia nge femminili che maschili avete un pochino paura di procedere in questa relazione quindi siete molto concentrati a fare un passo alla volta per cercare di ottenere veramente quello che volete pensate piuttosto di poter peggiorare la situazione invece che di migliorarla quindi preferite fare un passettino ogni giorno in più cercando delle conferme dei messaggi dei messaggi da parte insomma dell'universo che state facendo bene e che è davvero anche quello che volete ottenere quello che vi sta generando dei dubbi con questa carta del lotto di denari rovesciato e che magari manca ancora un po della tenerezza quella che avreste bisogno di ottenere un pochino di più sentite di più l'esigenza di affetto ora poi vedremo più avanti nella stesa quale delle due energie femminili maschili sente di più questa mancanza e quale magari uno dei due sta facendo di più i fatti suoi nel senso che magari esce di più per conto suo con degli amici e pensa un pochino di meno all'amore però qui abbiamo anche questo arcano del mago in posizione dritta tra l'altro che indica che comunque quelle cose procedono oppure proprio iniziano per chi è single quindi c'è una volontà da parte ora vediamo di più da parte di chi a voler procedere nella direzione di un rapporto magari stabile oppure proprio nella volontà di iniziare una relazione nuova e ora vediamo che lei con questa carta oracolo delle preghiere delle speranze sta cercando di mettere tutta la sua energia per creare delle azioni buone affinché si avveri ciò che desidera quindi sta veramente cercando di concentrarsi magari aiutandosi anche qualcuna di voi sicuramente con qualche preghiera con qualche mantra insomma con qualche mezzo un pochino più spirituale per cercare di migliorare la situazione quindi già da quel questa parte qui distesa si potrebbe dire che forse è la parte femminile che sente un pochino certe carenze andando poi infatti a vedere anche che cosa le prova con questa carta della ruota diciamo che la situazione sia un pochino andata a cambiare sia un pochino andata a ribaltare e la direzione che ha preso come sentimenti dell'energia femminile verso quella maschile con questo asso di denari è un pochino come se non volesse avere delle iniziative nei suoi confronti lei sta veramente aspettando delle conferme e sta aspettando di vedere come lui si muove e in che direzione vuole andare anche perché se vi ricordate dal mese precedente avevamo lasciato l'energia maschile che per il momento non voleva dire veramente quello che voleva ottenere si era tenuto un po' sull'affettuoso sul cercare di essere più carino possibile però ancora non aveva manifestato tutte le sue intenzioni quindi qui arriviamo nel mese di novembre che l'energia femminile non capisce che cosa vuole lui vuole un rapporto serio vuole solo un'avventura quindi è un po' un po' incerta comunque qui la carta della ruota significa anche per le energie femminili single che sicuramente possono trovare qualcuno che gli piace durante questo novembre mentre per tutte quelle che sono in coppia è un pochino come se volessero lasciare andare le cose lasciarle scorrere senza più discutere senza più cercare magari ulteriori chiarimenti e questo sicuramente darà un la un po' più positivo alla situazione perché questo significa cambiare il proprio atteggiamento e cercare di vedere le cose in modo positivo e affrontarle magari con un animo un po' più leggero infatti poi con questa carta oracolo dell'acqua magica lei vorrebbe vedere in lui un atteggiamento diverso vorrebbe vederlo trasformato quindi per esempio se prima aveva un atteggiamento un pochino più freddino adesso lo vuole vedere un po' più caldo un po' più affettuoso oppure un pochino più attento alle sue esigenze nel complesso che si dimostri un uomo un pochino più flessibile meno orgoglioso lei poi con queste carte dei tarocchi dei dieci di bastoni la regina di spade il comportamento che ha è quello un pochino del sacrificio cioè durante questo novembre l'energia femminile attenderà aspetterà pure se un pochino le pesa la situazione però dirà faccio questo ultimo sforzo per vedere in che direzione va questa relazione quindi si dimostrerà sicuramente molto calma e molto ponderata nelle sue azioni nelle sue parole non esagerata principalmente però ecco qui abbiamo anche la presenza di questa regina di spade che una donna molto determinata per fortuna è in posizione dritta che significa comunque ti do il beneficio del dubbio voglio vedere dove vuoi arrivare voglio ascoltare le tue parole prima di prendere una decisione è comunque l'energia femminile molto molto più matura rispetto magari all'inizio di questo anno è una donna molto determinata quindi è lì che sta dando lui quasi l'ultima chance all'energia maschile di cambiare di far vedere che veramente vale la pena di starci insieme lei ha deciso di prendere questa strada della chiarezza di agire per avere un rapporto onesto ed equilibrato e quello che metterà in pratica con questa carta delle affermazioni di accettazione è praticamente il rendersi conto che ci sono veramente delle situazioni oppure degli atteggiamenti che lui di lui su cui lei non ha influenza quindi che non può cambiare e si metterà in testa veramente di magari di smettere di picchiare su certi tasti per avere dei cambiamenti su alcuni aspetti su cui magari lui non vuole cedere oppure non è proprio in grado di cambiare quindi deciderà di usare queste energie che finora ha usato per cercare di cambiare le cose in qualcos'altro di un pochino più produttivo quindi qui care anime gemelle l'energia femminile è veramente disposta anche a fare un cambiamento nel senso di anche un cambiamento di partner nel momento in cui si rendesse conto che magari quegli aspetti che lei non può cambiare sono determinanti invece per lei per avere una relazione come desidera se si rende conto di questo le sue attenzioni andranno in automatico verso un'altra conoscenza quindi attenzione maschietti da un'altra parte invece se voi energie femminili continuerete questa relazione con anche tutti i suoi difetti vuol dire che già dal mese successivo di dicembre voi avrete accettato che non potete cambiare certe cose con questo tre di spade e il diavolo in entrambi in posizione rovesciata lei comunque a novembre non dirà assolutamente che ci sta male che sta soffrendo perché comunque pure se magari gli venisse in mente di cambiare partner o cominciare a provare a uscire con qualcun altro lei sente una forte dipendenza verso l'energia maschile e quindi fare questo ulteriore tentativo magari con un'altra persona le provoca della sofferenza non del piacere e anche il fatto che sta facendo tutti gli sforzi possibili con se stessa per rimanere calma e più tollerante possibile e non essere magari prepotente però fa davvero tanta tanta fatica l'energia femminile a pensare in modo diverso del suo partner e fa anche fatica ecco a cercare di non discuteci a non suscitare in lui questi scatti di orgoglio queste prese di posizione si sente ancora molto incastrata dentro schemi affettivi del passato e non sa bene come uscirne ecco quindi perché la carta dell'oracolo dell'accettazione perché a un certo punto lei o accetterà quello che non può cambiare o cambierà proprio lei situazione quindi qui abbiamo un'energia femminile a novembre che è davvero davanti a un bivio andiamo a vedere invece adesso lui e per lui abbiamo questa carta oracolo delle lacrime della già della tristezza e quindi lui a inizio di questo novembre si sente in un periodo negativo anche se comunque percepisce che è fuori dal tunnel dalla crisi dei mesi precedenti però ha ancora i suoi dubbi ci sono state delle cose che lo hanno ferito che gli hanno creato del dispiacere e quindi lui ha questi momenti di alti e bassi in cui si sente felice da una parte da quell'altra però ricorda quando è stato male e fa di tutto per considerarsi comunque fortunato ovvero per guardare il lato positivo della cosa e per pensare anche che dopo la tempesta arriva sempre il sole quindi lui parte con questo mese un pochino così un po si sente un po vulnerabile ecco con queste carte della forza e della torre poi comunque i tarocchi ci vengono a dire che lui sente un forte desiderio sessuale nei confronti dell'energia femminile e quindi vorrebbe fare delle azioni molto determinate molto forti belle chiare però la sua tristezza è dovuta al fatto che gli sembra sempre più difficile accontentare l'energia femminile e quindi si sente frustrato dalla situazione perché a lui piace veramente tanto è innamorato follemente è attratto non pensa ad altre e non sa più come renderla felice perché l'energia femminile sembra sembra distaccata sembra essersi allontanata sembra che non le basti mai le sue manifestazioni infatti da lei con questa carta oracolo della ibernazione della rigenerazione vorrebbe un pochino di pace un pochino di tranquillità vorrebbe essere per esempio portato fuori da qualche parte sereno a fare una passeggiata solo loro due a parlare del più e del meno fare comunque una pausa lasciare fuori dalla loro relazioni tutte le questioni del mondo tutti gli altri problemi e stare insieme loro due da soli sereni magari accoccolati da qualche parte con questo sedicope dell'asso di spade i tarocchi qui ci dicono che lui durante questo novembre non saprà bene come superare certe situazioni del passato penserà ancora ai suoi errori e quindi a tratti preferirà rimanere da solo in solitudine a riflettere per poi avviarsi mano mano che scorrono i giorni di novembre ha un atteggiamento un pochino più chiaro in cui praticamente farà vedere manifesterà chiaramente quello che vuole ovvero che desidera una relazione ufficiale che la sua passione è veramente alta e veramente a livelli altissimi quindi non ha più voglia ecco di situazioni ambigue strane vuole un rapporto ufficiale quello che farà poi con questa carta oracolo dell'affermazione per la crescita ovvero sarà quello di stare praticamente di smettere di stare fermo e riprendere in questo progetto insieme quindi nutrire anche incoraggiare l'energia femminile per una relazione più stabile e soprattutto ha capito che è il momento di smettere di stare ad aspettare i colpi di fortuna oppure che il destino gli presenti quell'occasione quella quelle coincidenze particolari per cui lui si decide a muoverse il a muovere le situazioni ma capirà che le cose non crescono da sole che hanno bisogno di dedizione hanno bisogno di di evoluzione e che quindi lui si deve sforzare se vuole veramente questa relazione e che deve la deve coltivare e queste carte dell'imperatrice rovesciata col 2 di coppe in cui i tarocchi ci rivelano quello che lo nasconde ovvero che lui sente un legame veramente profondo con l'energia femminile e che è un pochino come se lui si rendesse conto che lei riesce a capire i suoi pensieri e quindi si sente fortemente legato per alcune di voi care anime gemelle che magari avevate anche un terzo incomodo in questa relazione qui c'è una presa di posizione da parte dell'energia maschile del fatto che ha deciso di interrompere la relazione con quest'altra donna perché qui l'imperatrice ci esce in posizione rovesciata e quindi lui sicuramente non andrà più a toccare questo tasto nel senso che magari neanche ve lo verrà a dire che c'era qualche magari qualche ex o qualche presenza femminile intorno a lui recentemente e che lui ha deciso di troncare il 2 di coppe ci conferma che le sue intenzioni sono davvero serie sono quelle di arrivare a una relazione ufficiale per alcuni anche addirittura pensano al matrimonio e lui ha veramente voglia di superare tutti i conflitti che magari possono ancora esserci fra di voi quello che succederà come riassunto di questo mese soprattutto magari anche addirittura d'arrivo verso la fine con questa carta oracolo del dare quindi regalare amore qui abbiamo sicuramente l'energia maschile che farà vedere tutto il suo addore vi offrirà il suo amore e quindi si renderà disponibile ecco per questa relazione e per voi e solo per voi quindi qui potrebbero esserci delle manifestazioni di affetto come per esempio dei regali inaspettati perché lui ha voglia e ha bisogno di manifestare questo affetto l'unica cosa qui è attenzione energie femminili a non farvi prendere di nuovo la mano da qualche cos'altro quindi per esempio dal momento che avete atteso così tanto magari voi potreste impegnare di più la mente in altre faccende come il lavoro e non accorgervi di tutte queste attenzioni che vi vengono offerte qui abbiamo anche queste queste due carte dei 10 di spade del 9 di denari rovesciato 10 di spade ha una doppia balenza che significa interruzione delle situazioni precedenti quindi qui abbiamo delle situazioni un po diciamo a scelta e qui soprattutto la scelta aspetterà ad energia femminile ovvero o interrompere una relazione che non vi convince più nonostante tutte le vostre tutte le attenzioni che potreste ricevere magari un pochino troppo in ritardo per voi ormai quindi alcune energie femminili ormai si sono già stufate e lasceranno perdere la relazione andando incontro magari a qualche altra conoscenza mentre per alcune energie femminili che accetteranno la situazione la relazione prosegue anche se in fine distesa abbiamo questo 9 di denari rovesciato che significa che pure se accettate di andare avanti proseguire con la relazione che vi genera ancora dei dubbi questi dubbi purtroppo non andranno via quindi qui abbiamo un novembre in cui l'energia maschile è stanco è stanco di non avere le vostre attenzioni e quindi farà di tutto per attrarle si mostrerà affettuoso vi farà dei regali degli inviti eccetera e voi care energie femminili invece sarete stanche sarete stufe di aspettare quello che volevate ottenere e alcune di voi lo riceveranno troppo tardi quando ormai hanno già preso una decisione quindi in realtà sarete voi energie femminili a rimanere con un piedino fuori dalla relazione e qualsiasi cosa qualsiasi disappunto qualsiasi altra discussione che può nascere fra di voi potrebbe essere il motivo per dire ciao grazie arrivederci è stato un piacere basta mi sono stufata quindi care anime gemelle è questa la situazione abbiamo l'energia maschile che rincorre l'energia femminile che cerca di dimostrare tutto il suo affetto e tutto il suo ardore e l'energia femminile che è stanca è stanca di non avere veramente quello che desidera e è stanca di aspettare da tanto tempo e potrebbe anche dire sì magari adesso tu ne hai voglia ma a me mi è passata la voglia un po così la situazione quindi vedete un po voi perché in realtà la situazione si è praticamente capovolta rispetto all'inizio di questo 2021 in cui voi amiche andavate verso l'energia maschile a chiedere spiegazioni a dire voglio questo voglio quell'altro facciamo qui facciamola e adesso invece siete voi quelle rincorse e siete anche pronte a lasciar perdere la situazione e a dedicarvi a qualche altra nuova conoscenza quindi un po tutto dipende da voi e dalla scelta che farete bene cari anime gemelle io vi auguro un buon e più felice possibile novembre 2021 e noi ci sentiremo con le prossime stese ciao a tutti